Credo che sia proprio arrivato il momento di parlarne. Avete capito? Non bene, benissimo dal titolo. Dragon Ball Super Cooler, o per meglio dire l'ira di Cooler, sta finalmente per diventare realtà. Era nell'ormai lontano 2021 quando sentì per la prima volta parlare di questo fantomatico film con il ritorno di Cooler, ma ambientato nell'universo di Dragon Ball Super e con tanti utenti divisi tra chi pensava erroneamente che si potesse trattare del nuovo film ufficiale e prodotto da Toy Animation che poi sarebbe stato di fatto Dragon Ball Super Super Hero e chi invece aveva ben capito che si trattava di un fanfilm realizzato dalla community, italiana in questo caso per la community, ma con buona parte comunque di questa utenza convinta del fatto che si trattasse di un altro di quei classici progetti in stile Racing Blast 3, per capirci, privi di fondamenta ma soprattutto di alcuna lavorazione alla base. Bene, io quest'oggi, ve lo anticipo, sto per mostrarvi non solo dei contenuti totalmente esclusivi e che vi assicuro non sono mai stati resi pubblici, ma al contempo voglio farmi da portavoce nel dirvi che durante il corso di questo mese, quindi aprile 2024, ci sarà finalmente il primo trailer del film. Comincio già a dirvelo senza protrarmi più in avanti che nel primo link in descrizione trovate proprio la pagina Instagram BM Animation dove da lì potrete seguire tutti gli aggiornamenti ufficiali sia sul trailer che sul film. Ovviamente nel momento in cui uscirà il trailer ci mancherebbe, avrete la reaction sul canale, ma ce l'avrete anche di quando uscirà il film. In attesa che arrivi il trailer, che dovrebbe uscire all'incirca verso metà aprile mi è stato detto, parliamo però un pochino del progetto, che viene posizionato a livello di trama fra la saga di Moro e la saga di Granola. Quindi non solo posizionato dopo il finale dell'anime di Dragon Ball Super, ma anche portandosi in avanti rispetto ad alcuni avvenimenti accaduti all'interno del manga. Ovviamente lo si capisce già dal titolo del film, ma è bene specificarlo nuovamente ai fini della trama. Ci sarà anche Cooler, che farà però a questo punto in teoria la sua prima venuta all'interno dell'universo di Dragon Ball Super. Ma prima di tutto andiamo però a vedere qualche visual del film, perché oltre alla trama in cui non mi ci sono voluto molto addentrare, è molto importante vedere visivamente parlando questo film come sarà. E quindi vi mostro come prima immagine, ad esempio, questa art di Vegeta, che rispecchia quella che sarà, bene o male, la qualità generale di questo film. In particolar modo concentrandoci sullo stile, che risulta essere un misto fra lo stile di disegno e l'animazione classica di Dragon Ball Z, ma il tutto rivisto in chiave moderna, grazie ad uno stile che ricorda tantissimo Dragon Ball Super Broly, che personalmente ritengo essere ad oggi il film visivamente parlando più bello di tutto Dragon Ball. Altra immagine che vi voglio mostrare è questa di Souser. Immagine questa qui, che a differenza di quella di Vegeta che vi ho fatto vedere poco fa, che mi sa che è esclusiva, questa era già stata pubblicata da BM Animation, e quindi era già stata resa di fatto pubblica, vi faccio vedere a questo punto un qualcosa di veramente esclusivo. E ve lo anticipo, in questo video vi mostrerò i primi 5 secondi di trailer, ovviamente non ancora lavorato, ma sarà comunque una totale anticipazione di quello che vedrete nel corso di questo mese. Vi anticipo infatti che nel trailer che vedrete a brevissimo, inizierete a vedere questa immagine, che è un'altra visual, di quella che sarà, ad esempio, la grafica delle ambientazioni. O magari posso mostrarvi delle immagini esclusive della lavorazione dei vari frame del film, come il passaggio letteralmente da uno sketch ad un frame totalmente rifinito e anche colorato. Mentre in quest'altra immagine esclusiva abbiamo la lavorazione di un primo piano di Vegeta. Ma passiamo a qualcos'altro. Io direi un po' di doppiaggio. Ad esempio, ascoltiamo qualche voce. Fa freddo qui dentro. Puoi dirlo forte. Bene, quello che avete appena sentito è un dialogo fra la voce che avrà Yamcha all'interno del film, ma soprattutto quella che avrete ben riconosciuto, e la voce della mitica Marcella Silvestri, nonché doppiatrice storica di Krillin, e che sarà parte del film. Un'altra voce che potreste riconoscere, e ve la faccio ascoltare anche con varie intenzioni, è questa qui. Ascoltate un po'. La migliore domanda da fare è chi è dentro quella navicella. La migliore domanda da fare è chi è dentro quella navicella. Accidenti, a cosa stai pensando, Kakarot? Accidenti, a cosa stai pensando, Kakarot? Accidenti, a cosa stai pensando, Kakarot? L'avete riconosciuto? È proprio lui. Gianluca Iacono, il principe dei Saiyan, il vero, solo ed unico. Un'altra voce poi che voglio farvi ascoltare, e questa volta ve la mostrerò tramite proprio la narrazione di uno storyboard, derivante dalla lavorazione del film, è quella di questo personaggio in particolare. State un po' ad ascoltare, e anche a vedere a sto giro. A Central City, molti cittadini vivono serenamente. I bambini giocano, e i più grandi passeggiano in modo spensierato. Nelle vicinanze di un parco è inoltre presente un invitante chiosco di gelati, seguito da una lunga fila, che però rende molto impazienti i suoi clienti. Immagino abbiate riconosciuto anche lui. Si tratta di Mario Scarabelli, nonché unico ed inimitabile narratore di Dragon Ball. A questo punto, visto che siamo nelle fasi finali di questo video, vi ho già mostrato, secondo me, tanta roba. Direi di chiudere con un piccolissimo scorcio, animato, ma non ancora colorato, rifinito, solo delle animazioni ci sono, in cui viene raffigurato uno scontro fra due personaggi. Guardate un po' qui. Bene, spero che vi abbia allettato. Quindi, infine, vorrei chiudere questo video con i primi cinque secondi di trailer, ma attenzione, non ho ancora lavorato, perché non volevo anticiparvi nulla. Quindi vedrete tutto nel corso del mese, insomma, quando sarà bello, definito e pronto per essere visto. Quindi, i primi cinque secondi di trailer, che vi lancio ora. Salve, Goku. Ti starai chiedendo chi sono? In cui avete già potuto ascoltare un'anticipazione della voce di Cooler, ma voglio farvi vedere anche questo piccolissimo scorcio che vedrete un po' più avanti nel trailer, anche questo non ho lavorato ancora, ma che a me ha fatto personalmente impazzire e che vi ho voluto portare qui in questo video veramente come totale esclusiva. Kakarot, mostriamo loro com'è un Super Saiyan! Questa, personalmente, è la scena che mi ha gasato di più. Ragazzi, io mi raccomando, voglio sapere qui sotto nei commenti, in primis se siete carichi, se conoscevate già il progetto di Dragon Ball Super, l'ira di Cooler, e soprattutto se siete contenti che un progetto italiano, a cui, come potete vedere, ci stanno lavorando tante personalità che fanno parte del mondo di Dragon Ball, stia andando così avanti e che sia vicinissimo al rilascio del primo trailer ufficiale nel corso di questo mese. Io ovviamente vi rimando ancora una volta sia al link in descrizione alla pagina Instagram di BM Animation, e vi invito anche ad attendere qui sul canale chissà, magari qualche altra piccola anticipazione o esclusiva nel corso dei prossimi mesi, ed ovviamente il prossimo appuntamento col film sarà la reaction al primo trailer che uscirà se tutto va bene durante il corso di questo mese. Ragazzoli, ancora una volta, mi piace, commenti, iscrivetevi, condividete, e noi a questo punto ci diamo appuntamento. Come al solito, ad un prossimo video.